Ed eccoci qua in questa nuova video analisi, io sono Marco di Oggi Trading e come ogni settimana andremo a vedere le analisi dei mercati su diversi asset finanziari. È stata una settimana molto volatile all'insegna della notizia sul vaccino, infatti c'è stato il primo vaccino nel mondo di Pfizer e BioNTech che al 90% diciamo sembra affidabile, quindi mercati in euforia totale, soprattutto spinti da dei titoli industrial e quindi diciamo che il MIB è riuscito un po' a spaccare quell'area che dicevamo di 20 mila fino ad arrivare nell'area grossa dei 21 mila. Adesso come potete vedere siamo in un'area di quasi triplo massimo del mercato dove non c'eravamo arrivati praticamente da luglio, quindi aree molto grosse e importanti e sarà da vedere un po' se il mercato riuscirà ad accelerare il rialzo, no? Quindi sicuramente questi sono dei livelli da attenzionare molto secondo me durante la prossima settimana e un'eventuale accelerazione rialzista dopo vi faccio vedere con l'indice vero e proprio dei possibili scenari se dovessimo rompere quest'area. Adesso siamo sempre in una zona laterale di ampissimi orizzonti perché siamo in area tra 17 mila, 18 mila fino ai 21 mila quindi veramente un range larghissimo però attenzione perché se dovessimo accelerare il rialzo abbiamo dei target ben più superiori. Quindi il punto cruciale è questo e secondo me la zona anche cruciale è dove ho messo la freccia rossa. Se dovessimo accelerare però arrivassero sotto questa freccia rossa e quindi entrare in questo range, no? Dove secondo me si creerà bassa liquidità del mercato e quindi bassa diciamo attenzione, no? Di trend, bisogna attendere poi il livello successivo dove potrebbe ritornare un po' di interesse per ripartire o addirittura poi un livello molto più sotto verso 19 mila e 50 che è la chiusura gap di del praticamente del del vaccino. Quindi attenzione a questi questi livelli che ho segnalato quindi si va step per step per ora rimane rialzista il Futsimib finché abbiamo questa tenuta dei 20 mila 560. Se dovessimo avere una rottura H4 Daily sotto questo livello per me come livello successivo potremmo poi tornare subito in area 20 mila. Qua è una zona comunque dove il mercato ha strappato però comunque con poca liquidità a mio avviso e quindi bisogna forse andare a farsi un retest di questa liquidità e provare poi a spingersi al rialzo. Quindi questi sono un po' i livelli secondo me fondamentali sul Futsimib e se andassimo a vederci su time frame più alti quindi prendendoci anche degli orizzonti verso i livelli di pre covid quindi che libera verso 25 mila vediamo che l'area quasi fondamentale sarà poi l'area tra 21 mila circa e 22 mila quindi questo poi seconda fascia di range. Dobbiamo romperla non è facile però adesso ci sono un pochino più di condizioni per provarci anche se ragazzi il vaccino non arriverà in tempi brevi quindi non è che la situazione si risolve anzi se state vedendo abbiamo sempre più zone rosse sempre più lockdown sparsi per tutto il mondo quindi c'è ancora parecchia tensione. Quindi questa è un'area secondo me cruciale e bisogna capire se il mercato avrà la forza di romperla. Se dovesse avere forza e quindi un po' di coraggio da parte del Futsimib visto il trend praticamente laterale da giugno in poi dove il mercato è in questa fascia qua tra 18 mila bassa e 21 mila la rottura ci può proiettare in questa seconda altra fascia di dove il prezzo potrebbe stare per ancora parecchio tempo visto che il Mib per il momento con le azioni che ha purtroppo nel suo paniere diciamo che è molto molto piatto quindi molto laterale quindi attenzione all'area qua e attenzione anche però all'area più bassa come dicevamo prima perché possiamo arrivare a chiusura gap nell'area sotto di 19 mila e 50 dove potrebbero nascere dei problemi e quindi delle nuove correzioni risorse. Speriamo di no perché comunque un po' ci teniamo anche al nostro indice e cercheremo di sfruttarlo al meglio per vedere magari dei titoli che potrebbero darci qualche soddisfazione come nel nostro club premium. Prendo l'occasione per dirvi che potete registrarvi alla nostra newsletter per avere tutte le altre analisi su DAX, NASDAQ, petrolio, gold e forex o registrandovi dal sito quindi andando sul sito e andando nella sezione registrarvi le nostre analisi e facendo iscriviti oppure al link sotto postato nel video dove avete praticamente l'accesso alla mailing list direttamente posto a iscriversi e cliccate sul link vi iscrivete e avrete tutte le nostre analisi che vi arriveranno domenica alle 21 ogni domenica non c'è bisogno di registrarsi ogni domenica ma una volta iscritti ogni domenica alle 21 avete tutte le analisi della settimana su tutti questi asset quindi vi aspettiamo anche nei nostri canali da Telegram a Facebook anche ai podcast che facciamo e quindi spero che sia stato utile e ci risentiamo presto